Leonardo Silva Revisorevole Ho iniziato a insegnare disegno per raccontare alle persone tutto quello che il disegno ha insegnato a me nell'arco della vita, sulla vita. Sono qui per dirvi che saper disegnare è qualcosa che va ben oltre il fare un bel disegno. Il disegno è una porta verso la conoscenza di se stessi e del mondo ed è anche un linguaggio infinito, illimitato, alla portata di tutti. Il tema di oggi è tornare a crederci. Io vorrei invitarvi a tornare a credere alla possibilità di meravigliarvi di voi stessi. Magari perché no, attraverso il disegno. Perché questo? Perché le parole degli altri a volte ci frenano. Quante volte magari abbiamo sentito dire quando eravamo piccoli o perché no anche da adulti che disegnare è una cosa stupida o è un'attività inutile che non può essere un lavoro e quante volte ci siamo sentiti dire la frase non sei capace non necessariamente nell'ambito del disegno. Come ho detto prima, le parole degli altri frenano, le paure degli altri frenano e ci portano spesso a prendere binari che sono molto lontani dai nostri veri desideri. Il disegno nella pratica continua nella pratica continua ci mostra come è possibile superare noi stessi, superare le nostre stesse aspettative per raggiungere dei risultati che sono sconvolgenti, ci fanno meravigliare. E quindi il disegno rimane una grandissima metafora di quella che può essere la nostra esperienza di vita. Questi sono disegni di alcuni miei allievi. I miei allievi vanno dai 13 anni ai 70 anni. Ed è bellissimo vedere come una persona intraprende un percorso e si meraviglia del suo cambiamento. Parlando di disegno, però, dobbiamo parlare delle sue componenti fondamentali. Il segno. Il segno è dato dal movimento e dallo strumento. Il segno racconta il nostro carattere, racconta il modo in cui noi agiamo, non solo sulla carta, ma anche nella vita. E poi c'è la visione, ovvero il modo in cui noi vediamo la realtà, che si traduce sulla carta nel modo in cui noi la rappresentiamo. Segno e visione, insieme, nella pratica, vanno a stimolare il sistema nervoso. Cosa significa? Che il sistema nervoso diventa più ricettivo, si apre, si espande. Quindi diventiamo più sensibili, più capaci di percepire le sottigliezze, i dettagli. Questa cosa incide tantissimo sul risultato, chiaramente. Ma incide anche sulla nostra consapevolezza. Quindi sulla nostra autostima. E così via, ciclicamente. Perché il disegno migliora nel tempo. E continua a migliorare. E continua a farci meravigliare. Kimon Nicolaides, le cui parole sono state riportate nel libro Disegnare in modo naturale. Sosteneva che c'è una grande differenza tra il saper disegnare e il fare disegni. Il disegno, in quanto oggetto, è una dimostrazione, è un risultato. Attesta un successo. Ed è ciò che tutti si aspettano. Ma ciò che conta veramente è quel percorso meraviglioso che ci conduce ad affinare la nostra consapevolezza nei confronti della vita. Quindi cambia il nostro modo di osservare e di vivere la vita nel disegnare. Parlando di cose concrete, il disegno, quindi, migliora il nostro modo di vedere la realtà così com'è. migliora la nostra capacità di utilizzare il corpo e il movimento in modo funzionale. Ci dà la capacità di sintesi, ovvero di trovare nella realtà l'essenziale. Però fa bene anche alla progettazione. Cosa significa? Noi possiamo partire da una realtà preesistente, elaborarla per generare una nuova realtà. Fa bene a pazienza, memoria e attenzione. Ci insegna la dedizione e ci insegna anche la determinazione. ecco perché mi piace insegnare disegno soprattutto agli adulti. Perché è bellissimo vedere quando un adulto decide di intraprendere un viaggio che non è un viaggio soltanto esterno. È un viaggio dentro di sé. E decide di scoprire dei nuovi aspetti di sé. Il disegno fa emergere talenti che non sono necessariamente legati all'arte visiva. Fa sorprendere perché apre delle porte che fino ad allora erano rimaste chiuse. Quindi medici, avvocati, ingegneri, anche gli architetti che al giorno d'oggi disegnano pochissimo, possono imparare a disegnare per imparare a progettare spazi e processi. Per imparare a trovare soluzioni attraverso un pensiero, che è un pensiero visivo. Possono imparare a usare la loro mente in un modo molto diverso rispetto a come la mente lavora nel quotidiano. Ma il disegno è anche terapia. Nel senso che può aiutare persone che hanno difficoltà, ad esempio motorie, oppure persone che hanno difficoltà di dislessia o disgrafia. Ma anche accompagnare persone che stanno seguendo una cura o un percorso di riabilitazione, una terapia. Perché il disegno può essere anche raccontato così. È uno spazio, senza spazio e senza tempo, tra due parentesi nel percorso della vita. In quell'istante, l'istante della pratica del disegno, la persona mette da parte il suo io e si fonde con l'esistenza. In quel momento c'è solo esistenza e creazione. Quindi la persona si apre molto più facilmente al cambiamento. Quindi le arti, per me, sono un luogo speciale. E vorrei che fossero un luogo speciale per tutti. Il luogo per conoscersi, senza necessariamente farne una professione. Per me sono uno spazio carico di dignità che tutti dovrebbero imparare a comprendere e accettare in questo senso. Dagli adulti ai bambini. Ma dico soprattutto gli adulti perché sono gli adulti che poi accompagnano i bambini nel loro percorso, prendono delle decisioni per loro. Per cui il mio invito è quello di tornare a casa con una visione diversa di ciò che è il disegno, di ciò che sono le arti. E se Nicolaides sosteneva che l'intangibile è più interessante del tangibile e che anche il percorso conta quanto la meta, quanto il risultato, allora il disegno può essere anche qualcos'altro. può staccarsi da ciò che è rappresentazione per farsi puro segno, per diventare performance, qualcosa che racconti un'azione, un'esperienza. Quindi una sorta di mappa che racconta un istante di esperienza. Lui è Paolo Gozzetti e ora andremo a raccontarvi qualcosa. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.